ciao ragazzi benvenuti giorno 2 sto andando a fare la spesa a supermercato vediamo se riesco a far vedere qualcosa allora io devo trovare l'acqua e l'acqua l'ho trovata questa è maracuia e mangola tutto maracuia questo sembra interessante cioè ragazzi questa informazione a una ragazza era più veloce della luce ma complessi stava dietro decisamente ora si ragiona col vino di madeira non vi dico a quanto l'ho visto a lisbona le banane di madeira allora il video dei supermercati lo faccio fare a chi lo sa fare bene io vi ho fatto vedere solo un assaggio quello che mi ha colpito è che effettivamente sono loro che hanno imbustato la roba che mi faceva abbastanza strano e niente mi sembra anche di aver speso abbastanza bene quindi dovrei essere soddisfatto bene adesso ragazzi continuiamo a vedere funciol e vi dirò sono abbastanza abbastanza soddisfatto di quello che ho visto finora le banane le banane sono le banane di madeira come vi ho fatto vedere e non c'è nessun codice niente le pesano direttamente loro alla cassa perfetto allora dopo ragazzi praticamente un dolce alla ricotta veramente molto buono ottimo classico di lirio dal mercato non osi immaginare come qua il sabato strano ricorda l'uva Buonissimo. Poi ragazzi, decisamente è un posto interessante, il dir dirio principiamente al piano sopra è più tranquillo. Non male se vogliono fare assaggi singoli delle cose. Tra una cosa e l'altra al mercato ho speso 16€, però alla fine ho assaggiato delle frutta che meritava di essere mangiata, visto non ho mai assaggiato in vita mia, vabbè, non metti in conto. ... ... Grazie a tutti. Desilamente molto bella e suggestiva.